La conduttrice svizzera ed esperta di beauty, mostra a tutti il suo segreto per una pelle luminosissima. Michelle ha lanciato la sua linea che, a detta di molti consumatori, non solo promette ma fa dei veri miracoli. La donna con Guvi ha ottenuto un successo incredibile e quasi tutti i giorni nelle sue storie. Racconta qualche piccola chicca dei suoi prodotti. Dopo le feste ha lanciato l'offerta sui suoi prodotti detox per consentire a tutti di drenare e liberarsi dalle tossine e soprattutto dai gonfiori dovuti alle grandi abbuffate di questi giorni. Anche sulla sua linea make-up ha deciso di fare un regalo lanciando delle offerte per la Befana. Con un minimo di spesa si potevano ricevere dei prodotti in omaggio. Questa nuova settimana inizia con tantissimi buoni propositi. È pur sempre il primo lunedì dopo le feste e Michelle, come tantissime altre persone, ha intenzione di non rimandare più i buoni propositi e la cura del proprio corpo. La Unziker con la sua linea. Vuole aiutare i propri fan a migliorarsi non solo agendo dall'esterno con creme e sieri ma anche dall'interno con integratori studiati a puntino. Anche oggi, nelle sue storie, arriva un trucco per una pelle liscia e luminosissima. Pelle liscia e luminosa? Ecco il segreto di Michelle. Dovete farlo prima di entrare in doccia. Dopo aver accompagnato le bambine a scuola, Michelle è tornata a casa e ha deciso di postare delle storie in cui svela tutti il segreto per avere una pelle liscia e luminosissima. Parte con lo spiegare che il suo scrub buvi va applicato prima della doccia in maniera tale da esfoliare tutta la pelle in eccesso. Massaggia bene il prodotto a pelle asciutta per creare maggior attrito con i granuli e solo dopo si fionda in doccia. Non solo sul corpo. Il suo scrub non è aggressivo e può essere utilizzato anche sul viso. Subito dopo essersi lavata, la donna passa ad un burro per nutrire la pelle nuova. Stando a quanto dichiara Michelle, il suo burro corpo ha una consistenza ed una profumazione che ha fatto breccia nel cuore di uomini e donne. Dopo la doccia è perfetto per idratarsi senza ungere nuovamente la pelle. Questi sono i passaggi della conduttrice per una pelle morbida e luminosa.